il bilancio si muove il bilancio, che ci viene addosso non è più di un insieme, non è più di un insieme la ripresa è una figa da qua eh ma troppo di sicuro cioè non sono non ce l'ho così safe, da un po' lavato si anche a te vedi la tua macchina senza schizzi ciao 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 Grazie a tutti.